Avremmo assistito poi ad altre elezioni nelle quali le vittorie del nuovo presidente degli statuti di America sarebbero state sul filo di lana o quasi o addirittura capovolgendo i rapporti di maggioranza e opposizione ma quella volta fu davvero emozionante e impressionante. Per la prima volta un presidente vinceva con appena 113 mila voti su 69 milioni di votanti e John Fitzgerald Kennedy batte Richard Nixon vicepresidente di Eisenhower negli anni precedenti. Che uomo Kennedy. Il primo presidente cattolico nella storia degli Stati Uniti. Il presidente più giovane eletto da appena 43 anni. Un impressionante e mozzafiato parallelismo con Abraham Lincoln eletto esattamente cento anni prima e ammazzato per la sua politica così come toccò a John Kennedy. John Kennedy era l'uomo della nuova frontiera e lo è ancora. Era l'uomo dei corpi di pace, i Peace Corps. Era l'uomo dell'inizio dell'escalation del Vietnam che quell'escalation non voleva e probabilmente come ha ricostruito in modo mirabile anche il film di Oliver Stone con un andamento coinvolgente tra l'inchiesta giornalistica e quella giudiziaria morì proprio per questo. Fu ammazzato proprio per questo. Fu protagonista della crisi che ci portò più vicini al loro caos nucleare, la crisi dei missili di Cuba quando i sovietici erano arrivati a schierare le loro armi di distruzione totale a un passo dagli Stati Uniti d'America e che sterofonia con un'altra grande figura cattolica di quegli anni, il Papa Giovanni XXIII, il Papa della Pace a Midterris. John Kennedy, un uomo capace di dirci ancora oggi qualcosa che nasconde in sé una profonda verità. Diceva la vita è cambiamento e solo quelli che si ostinano a vivere guardando al passato e radicandosi solo nel presente perderanno il futuro. Lui non era così, l'hanno ammazzato, ma è un uomo del futuro.